Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 11 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo acquario. Una giornata coi fiocchi. Finalmente una giornata coi fiocchi anche per voi, a garantirvela la luna energica e ottimista in sagittario, in se stile a venere creativa e amorosa in bilancia, tutti segni in perfetta sintonia col vostro taciturno ma pensoso mercurio, impegnato a occuparsi dei vostri affari, così al meno non ci dovrete pensare voi, che col denaro non andate mai d'accordo. Liberi dunque di rivolgere la mente ad argomenti più ameni, i sentimenti innanzitutto, in bilico tra amicizia e amore, oppure le vostre passioni, l'arte, la musica, la danza e naturalmente viaggi. Per tipi in controtendenza come voi prenotare con largo anticipo il prossimo viaggio non è follia, ma pura normalità e così guardando già al 2025 trovate occasioni a prezzi imperdibili e decisi a non pensare all'incertezza del pianeta, a guerre, siccità e calamità varie, un clic sul mouse ed è fatta, avere un bel progetto per il futuro aiuta a vivere più serenamente anche il presente. La coppia è unita ma con molte incertezze e dubbi, basta un niente per metterla in crisi. La coppia non è matura per un qualche progetto importante e potrebbero presto nascere incomprensioni, litigi e contrasti. I singli incontreranno amicizie nuove che però sono labili e potrebbero disgregarsi facilmente senza troppe prove di appello. Qualcuno interessato a voi si potrebbe fare avanti solo se voi lo incentiviate, assumete un atteggiamento di sicurezza e cercate di scoprire chi è. Cerca di essere più espansivo. Dimostra il tuo affetto agli altri. Molto da fare. Non stancarti. Energie basse. Emicranie e possibili mal di denti. Cercate di seguire un nuovo stile di vita, solo in questo modo risuccirete a risollevarvi gradualmente dallo stress e dall'ansia per alcuni problemi che vi affliggono. Non siate precipitosi. Cercate di darvi da fare per concludere al più presto un progetto che vi sta molto a cuore ma senza strafare. Non avete bene il senso delle cose oggi, alcune situazioni potrebbero sfuggirvi di mano. Se avete un amore segreto o una storia extra fate molta attenzione. Momento buono per chiedere prestiti, mutui o finanziamenti, ottimo anche per stipulare assicurazioni o rivedere e rivalutare quelle presenti. Il momento è meno proposi a fare investimenti. Vantaggi da soldi di altre persone. Potresti trascorrere una serata piacevole ma non essere polemico con gli amici e perdona qualche. Scherzo. State per commettere un errore e Marte favorirà l'errore stesso. Cercate di ponderare bene situazioni e persone prima di affrettarvi in una decisione che potreste rinviare. Non abbiate timore di credere nei vostri progetti, avete una buona dose di energia e le forze non vi mancano. Dovete solo infondere una svolta alle cose rimboccandovi le maniche e la voando di più e meglio. Nettuno e Saturno, i vostri pianeti preferiti, domiciliati e insaltati nel segno, si dispongono felicemente dal segno buon vicino dei pesci, per donarvi uno sprint davvero formidabile supportato da quel senso di realtà per cui siete visti come maestri di vita. Riuscite oggi, contatto ed equilibrio, a gestire una situazione familiare che vi aveva dato qualche preoccupazione, incassate e inserate i risultati dei vostri sforzi. In campo sociale assistete a un momento di vivacità e sereno svolgersi dei contatti. Le amicizie sono il vostro punto di maggior forza e vi riempiono felicemente l'esistenza. La luna e Venere, la prima in Sagittario, la seconda in Bilancia, fanno a gara per darvi una mano tirando in campo i vostri argomenti preferiti, l'amicizia, l'amore, il viaggio e l'arte. Solo Mercurio, contrariato per l'ammontare dei vostri conti non vi degna di uno sguardo, astenendosi dalla conversazione e dalle proposte effettivamente intriganti che vi vengono fatte dal cielo. Non c'è tempo per riflettere però, o prendere o lasciare. E allora prendete. Amore ed Eros Se è vero che l'amore viene viaggiando e potete giurare che è proprio così, può anche darsi che viaggiando se ne vada. Forse dipenderà anche dal vostro comportamento e dalla disponibilità ad aprire il cuore, un sentimento così non si crea e non si appaga da solo, occorre la controparte e bisogna che ci stia. Dall'amicizia all'amore comunque oggi il passo è quasi scontato, più facile incontrarsi in viaggio per lavoro, in aereo, in treno, sarà l'effetto libertà a scatenare il colpo di fulmine. Sebbene tendiate a fuggire i coinvolgimenti, temendo di rimanerci incastrati. Qualche volta nella pagna ci finite davvero. Il cuore innamorato non ha logica e non sa nemmeno dove la razionalità stia di casa. Giove nel vostro segno amico dei gemelli, molto positivo per voi, specie se siete nati nella seconda decade, innalza il vostro tono vitale e vi rende coinvolgenti, propositivi, appassionati. Una vera fortuna per chi vi ha accanto. Colmate il quotidiano della persona amata con la vostra gioia di vivere il gusto per le cose belle di cui sapete circondarla. Lavoro e denaro? Tutti concordi, i colleghi ormai divenuti amici, se c'era un'avvertenza sindacale la si affronta tutti insieme. Si comincia con una richiesta di aumento, impensabile sostenere l'attuale caro vita con uno stipendio risicato. Pertanto se vi viene proposta una trasferta, anche su un periodo lungo, accettate senza battere ciglia. Vi spiacerà lasciare gli amici, casa vostra e le abitudini ma. Qui bisogna riportare le scorte, nebo, il contrario tra le stelle, sta già architettando una punizione esemplare. Benessere. Sani, belli e felici, l'unico neo è che dormite troppo poco e per giunta male, indizio che dopo tanta eccitazione qualcosa che vi preoccupa e agita c'è anche per voi, ma naturalmente non lo ammetterete mai. Eppure chi vi spia dal buco della serratura lo sa che la valigia la rifate tre volte prima di esser certi di aver preso tutto. Nervosismo indichiarato ma presente e, anche se tutti lo negano per Bonton, anche piuttosto evidente. Denaro. Magnifici introiti vi colmano di soddisfazione e vi permettono di essere disinvolti negli acquisti e, perché no, anche in alcuni lussi che vorrete in questa giornata concedervi senza alcun senso di colpa. Per lei, dal viaggio in Oriente effettuato questa estate avete portato un sacco di roba bella, indumenti, accessori bijux, uno stile che oltretutto vi sta d'incanto, un tocco esotico per ogni occasione e la vostra personalità prende ancora più luce. Per lui, un po' viaggiando per lavoro o per studio, un po' per piacere, nel mondo non c'è paese dove non abbiate almeno un amico, ecco perché siete sempre in giro, una volta di qua, una volta di là. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 9, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.